Lucio Perugini, Foggiano Doc, grazie per averci ospitato qui nel tuo mondo, in questa officina strepitosa che racconta la tua storia. Una grande emozione a correre per la Ferrari, aver vinto tre titoli italiani consecutivi, infatti è un record nella storia Ferrari, 35 vittorie di fila nei primi tre anni, quindi è una cosa di cui sono molto orgoglioso. Sono Foggiano Doc, mamma e papà Foggiani e sono nato qui agonisticamente con i go-kart. Però la tua storia è bella da raccontare perché come in una gara c'è sempre una partenza ed un arrivo, la tua partenza è legata ad una figura molto importante per te che è quella di tuo padre.